Ritengo sia andato molto bene, abbiamo visto tanto interesse da parte della platea. Sì, siamo al Festival del Lavoro perché abbiamo deciso di alzare l'asticella dell'attenzione su temi caldi e lanciare un ciclo di eventi che ha la finalità di porre l'attenzione su quelli che sono i problemi che i nostri consulenti hanno sul territorio. È un nostro modo di stare vicino alle imprese attraverso i consulenti del lavoro. Vogliamo mettere nella loro cassetta degli attrezzi degli elementi utili per poter risolvere i problemi che giorno dopo giorno devono risolvere. Allora, li scegliamo d'accordo con tanti professionisti delle nostre reti territoriali. Noi abbiamo la necessità proprio di capire qual è l'esigenza del territorio e poi facendo una panoramica a livello nazionale tiriamo fuori quello che potrebbe essere l'elemento di interesse per la categoria. Dopodiché ci confrontiamo con il Centro Studi Lavoro Continua per capire quale tra i temi analizzati è quello che ha più necessità di approfondimento. Poi scegliamo i relatori e cerchiamo di dare le risposte che il consulente del lavoro vuole.